Un volo di oltre 10 metri nel vuoto. E' morto così al secondo giorno di rientro a scuola dopo le vacanze, davanti agli occhi dei compagni Andrea De Gabriele, 17 anni, di Campi Salentina, studente del quarto anno di liceo scientifico nell'edificio di nuova costruzione che ospita la succursale del De Giorgi. E' morto alla fine dell'ultima ora a educazione fisica, nel campetto da gioco all'esterno della struttura. Gabriele aveva poggiato il giubbotto come chissà quante altre volte all'inferriata sul muretto che delimita il campetto, oltre il pozzo luce coperto da una sottile rete per piccioni in cui sovrasta il garage di un grosso emporio di casalinghi. Un colpo di vento probabilmente e l'indumento cade al di là dell'inferriata. Il ragazzo, forse aiutandosi con questa sedia, si arrampica per recuperarlo nel punto in cui la rete protettiva del campo si interrompe. Il salto gli è fatale, la copertura si squarcia e Gabriele precipita. Sull'ambulanza del 118 la corsa disperata verso il pronto soccorso del Vito Fazzi, ma poco dopo l'arrivo il cuore dello studente cessa di battere. I sanitari soccorreranno anche il docente di educazione fisica colto da Malore. Quello stesso docente, che sussurra a qualcuno, aveva messo in guardia i ragazzi sui pericoli di quel frequente scavalcare per raccattare oggetti. Storditi i suoi amici, in molti hanno raggiunto l'ospedale. Ascoltati dagli agenti della squadra mobile, la stessa preside Giovanna Caretto, i docenti e il personale amministrativo dell'istituto. Saranno sentiti anche i responsabili della sicurezza della scuola e della provincia proprietaria dell'immobile. Tanti punti da chiarire sulle circostanze dell'incidente e il rispetto delle condizioni di sicurezza. Il magistrato di turno, Giuseppe Capoccia, attende l'informativa della scientifica della polizia per valutare eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Grazie.